Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come punto dopo alcune decisioni prese della professoressa Celentano scoppia il puttiferio e viene sommersa dai fischi. Nella scorsa settimana ad amici, non sono mancate polemiche e reazioni a seguito delle decisioni della professoressa Celentano. Le recenti eliminazioni hanno scatenato un puttiferio in studio, con una reazione senza precedenti da parte del pubblico e degli stessi concorrenti. Nomi attesi e talentuosi si sono ritrovati improvvisamente al centro della sfida, mentre alcuni favoriti sono stati sorprendentemente messi in discussione. La tensione è salita quando la professoressa Celentano ha preso decisioni discutibili durante le prove, suscitando fischi e proteste. Le ultime sfide hanno portato alla luce un mix di talento e controversie, mettendo in discussione il ruolo e l'autorità della giuria. Il confronto acceso è iniziato quando la celebre giudice ha espresso giudizi fortemente critici nei confronti di alcuni concorrenti, suscitando sconcerto tra i presenti in studio e telespettatori. La sua visione rigida e puntigliosa ha diviso il pubblico, portando alcuni a sostenere la sua attenzione per la perfezione e altri a criticare la mancanza di compassione nei confronti dei giovani talenti. Nelle ultime puntate non sono mancate le sfide, ma nessuno è stato eliminato. Li Jolie, sfidante su decisione di Rudy Zerbi per aver ottenuto l'ultimo posto nella precedente competizione, ha trionfato. Un nuovo allievo, il cantante Malia, è entrato a far parte della scuola. Sara, classificatasi ultima nella gara di canto, ha restituito la propria maglia. La reazione del pubblico e dei concorrenti.Lo studio è diventato un campo di battaglia emotivo, con concorrenti visibilmente scioccati e frustrati per le scelte della giuria. I fischi e i cori di disapprovazione hanno accompagnato le parole della professoressa Celentano, evidenziando un divario tra l'approccio tradizionale e il desiderio del pubblico di vedere una valutazione più aperta e inclusiva. Le reazioni sui social media non si sono fatte attendere, con migliaia di fan che hanno espresso delusione e rabbia verso le decisioni della giuria. Commenti di protesta hanno invaso le piattaforme online, mentre petizioni per salvare i concorrenti a rischio eliminazione hanno raccolto un'adesione significativa. Sappiamo che la Celentano è sempre stata al centro della polemica, infatti, in un recente video pubblicato sulla piattaforma Instagram, appare una giovane maestra Celentano dalla chioma Riccia e Folta, in una delle vecchissime puntate di Amici, in cui è intenta a mostrare a un allievo quali passi dovrà eseguire, ordinandogli un numero di ripetizioni davvero molto esigente. Come al solito la maestra, forte e sicura della sua sapienza, non si lascia intimorire dalle critiche e dai fischi del pubblico, che si espone in difesa del ragazzo. Ma in questo caso possiamo solo rispondere come farebbe lei, il mondo della danza sa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video